Ammi voi E ci si diverte con la comicità di Marco e Mauro Non mancate all'appuntamento e prenotate fin d'ora la vostra cena al numero 0172 71 33 33 O se vuoi anche solo ballare vieni tutti i martedì a ballando le cupole In diretta a partire dalle 20 e 45 Corri qui dentro di me perché ti amo